Ciao a tutti ragazzi, io sono Manuel ma potete chiamarmi semplicemente Ala e come vedete sono di nuovo qui su DayZ e questa in teoria doveva essere la nostra prima puntata in pratica vi spiego un po' cosa è avvenuto avevo accumulato un sacco di roba, un sacco di oggetti anche roba abbastanza avanzata, non tantissimo ma abbastanza avanzata e avevo deciso di farvi vedere, diciamo, il game in una fase già un po' impostata del gioco insomma, non proprio dall'inizio come fanno vedere magari in altri contesti non lo so, insomma, mi sembrava più interessante farvi vedere già un survivor pieno di roba insomma e tutto il resto che visitava le varie città beh, cosa è successo? il server su cui stavo e in cui avevo posato tutti i miei oggetti è scomparso quindi avevo le mie tende, tutti i miei oggetti dentro la tenda le tende funzionano come delle specie di, come delle specie di, diciamo, storage cioè come delle scatole in cui potete mettere la roba e tenerla lì anche quando siete offline in teoria rimane in pratica no, no, è successo che il server è scomparso nel nulla io qua probabilmente morirò, no, quindi voglio tornare su il server è scomparso nel nulla, quindi io ho perso tutti i miei oggetti e il mio piano diabolico per conquistare il mondo è fallito cosa porta, cosa mi porta tra l'altro su questa collinetta diciamo che su questa collinetta c'è la possibilità che spawnino dei veicoli io come potete vedere dall'inventario che adesso vi farò vedere notate la, cioè avevo pochissima roba dietro però avevo due ruote e un fuel tank parts sono dei componenti che servono a riparare gli automezzi insomma io speravo in qualche modo di riparare una moto, un veicolo eccetera avere anche un veicolo come mezzo di trasporto di questa serie beh, anche quello ovviamente è fallito perché a parte che i veicoli non sono spawnati ma poi non ho più niente, non ho cibo, non ho acqua tipo un po' di cibo, un po' d'acqua che tra l'altro adesso potrei consumarmi quindi mangiamo il cibo e beviamo l'acqua e tra l'altro noterete che ho, per chi è un attimo più pratico del gioco ho pochissimi oggetti perché ovviamente io avevo mollato tutto nella tenda per fare la mia missione alla ricerca del veicolo perduto e avrei recuperato il veicolo, appunto avevo lo zaino pieno di ruote e cose varie e quindi niente, quindi mi sono trovato su un server vuoto senza tutta la roba che avevo ma soltanto con degli oggetti momentani tipo un caricatore della pistola, una cetta, il coltello, la mappa e cose del genere, ho perso, avevo il backpack grosso avevo un sacco di cose interessanti e quindi niente, adesso ho deciso di farvi vedere questo splendido suicidio che segnerà l'inizio della nuova serie di DayZ e, beh, cercherò un modo rocambolesco di uccidermi perché inoltre è cambiato molto il gioco dall'ultima volta che ho giocato e non c'è più il tasto respawn quindi non posso respawnare, posso solo morire quindi ho deciso di farvi vedere un pochino in giro vedrete dei gran boschi per ora però piano piano cercherò di arrivare fino a Letro Zavorsk e, insomma, vi farò vedere un po' in giro nel tentativo di farmi uccidere da qualcuno ora il server non so quanto sia popolato mi sembra che ci fossero 20-25 persone quindi può darsi che se vado in una città un po' di gente la trovo adesso, ovviamente in discesa, come vedete, l'omino cammina un po' più lento tra l'altro sta riuscendo di nuovo il sole, si era un po' coperto questo server ha un orario, tra l'altro, abbastanza comodo per me perché è lo stesso orario del giorno normale insomma, se ci gioco di giorno, è giorno una cosa del genere perché dovete sapere che questo gioco ha l'orario di 24 ore quindi, se vi trovate a giocare di notte non è che dite, ah vabbè, gioco un pochino prima o poi arriverà giorno no, la notte dura qualcosa come 7-8 ore quindi lasciate perdere cioè, se volete giocare di notte dovete andare a modificare le impostazioni grafiche perché altrimenti non vedete una ceppa e se accendete qualcosa, tipo una lampadina o un flar o insomma, tutte le cose che permettono di vedere al buio è come mettersi un mirino sulla fronte e chiedere per favore di essere uccisi insomma, non è una grande idea dunque, io adesso cercherò di avvicinarmi alla città di Eletrozavorsk vi faccio vedere un pochino sulla mappa diciamo che noi eravamo qua, su questa collinetta e ora sto scendendo giù e andrò qua a Eletrozavorsk dove comincerò a girare, a sparacchiare e sperare, insomma, di attirare un po' l'attenzione e finire col botto questa vita che era durata anche un sacco io ora non ho idea di quanti giorni sia durata ma penso un bel po' di giorni vabbè, amen cose che capitano questo gioco è in alfa dovete saperlo ovviamente per chi non avesse seguito tutta la storia di DayZ diciamo, è un gioco in alfa ed è una mod di un altro gioco che non aveva avuto moltissimo successo sì, aveva un po' di successo ma oddio oddio, c'è gente che urla nella chat vocale non ho idea spero che non continui perché non ho idea di come bloccarlo comunque vi dicevo è un gioco che è una mod di un altro gioco che è Arma 2 che è un gioco un po' di nicchia è un gioco estremamente realistico che non tutti sono in grado di amare io personalmente non l'ho mai giocato io ho preso Arma 2 esclusivamente per giocare a DayZ perché mi ispirava un sacco sono un fan degli zombie Walking Dead e tutto il resto diciamo che appunto questa mod è ancora in alfa quindi capitano cose di questo tipo capita che come è successo l'altra volta avessimo un mucchio di veicoli e sono spariti nel nulla proprio tipo nel sono spariti nel pavimento non ce li possono aver rubati perché sono sparite anche le tenne insomma come se fosse stato resettato il server oppure succede come è successo a me in questo caso che stavo giocando una partita un po' in solitaria e beh scomparso del tutto il server cioè quando non ti scompare la roba nel server non trovi più proprio il server vabbè sono cose che succedono in alfa bisogna essere pronti psicologicamente a questo bisogna giocare sapendo sempre che si può morire davvero molto facilmente ci sono un sacco di bug e tutto il resto comunque appunto a prescindere dai bug come ho detto si può morire molto molto facilmente ora una lunga lunga corsa si può morire davvero molto facilmente in questo gioco quindi davvero non affezionatevi ai vostri oggetti perché rischierete soltanto di rosicare ora Ambu se sta ascoltando questo video lo sa cosa vuol dire rosicare perché è da un po' che non sta giocando perché proprio abbiamo quando abbiamo perso tutti gli oggetti è un po' impazzito qua ovviamente questi mostri mi attaccano non mi ammazzare oddio non ho più i colpi sto sanguinando oddio mi sono infilato dentro una pianta ok ok c'è questa gente che continua a parlare in chat vocale ok sto sanguinando quindi probabilmente morirò e la morte non sarà così epica come avevo desiderato dov'è dov'è lo zombie non ho più colpi non ho più colpi neanche da ricaricare ok mettiamo l'accetta vediamo se riesco prima di morire di sanguato non ho colpi neanche nell'accetta ovviamente questo gioco ha un po' di un po' di bug perché non mi fa usare l'accetta fammi usare l'accetta ok morirò di sanguato vabbè diciamo vi do il tempo per capire che diciamo come funzionano i danni in questo gioco vedete in alto a destra oh no forse qua mi riesco a salvare in alto a destra c'è un segnalatore che indica il blood e il blood diciamo è la vita totale che uno ha il problema è che io adesso mi devo bendare perché sto perdendo sangue non ho idea se riuscirò a bendarmi prima che questo zombie mi arrivi addosso comunque anche quando mi sarà arrivato addosso io non ho più colpi non ho più niente vediamo se riesco a bendarmi sì ce l'ho fatta ok forse riesco a a schivarlo diciamo che corro di qua vai vai sono riuscito ok grande grande sono riuscito a schivarlo fenomeno ok io non ho più colpi non ho neanche colpi nell'arma perché insomma in questo gioco appunto essendo un alfa molte cose non sono esattamente funzionanti l'accetta è un'arma da mischia come penso tutti voi potrete capire e in questo gioco non esistevano armi da mischia quindi per crearla cosa hanno fatto hanno modificato le statistiche di un'arma da fuoco e l'hanno resa appunto un'arma da distanza avvicinata infatti voi ora non la potete vedere in uso perché appunto non ho colpi però vedete appunto l'accetta non dovrebbe avere proiettili o necessità di essere ricaricata quindi è un po' strana come cosa però vabbè bisogna accontentarsi appunto è un alfa come ho detto insomma il sangue è un fattore piuttosto importante in questo gioco anche perché i modi per recuperarlo sono davvero pochi e beh specialmente quelli più efficaci si possono utilizzare solamente quando si è in gruppo infatti il modo più efficace per recuperare sangue è tramite una trasfusione le trasfusioni te le possono fare soltanto gli altri in questo gioco gli altri tendenzialmente ti sparano a vista quindi è piuttosto difficile recuperare sangue il modo più semplice che ho trovato giocando in singolo è sicuramente mangiare le fettone di carne che si possono diciamo cuocere andando in giro cacciando e poi cuocendole sul fuoco quelle sono sicuramente il mezzo per recuperare sangue più efficace quindi voi contate ci sono 12.000 di sangue in totale le fette di carne recuperano 800 di sangue capite bene che bisogna davvero mangiarne un mucchio per recuperare quindi non è un gioco semplice da questo punto di vista dal punto di vista del recupero di vita insomma quando si viene feriti è davvero un casino poi quando si scende tanto di sangue si comincia a svenire tendenzialmente si muore anche molto rapidamente ora quello la mi sembra oserei dire che è un survivor quindi cercherò di inseguirlo vediamo se quello la è un survivor cercherà di uccidermi se mi vedrà io provo ad avvicinarmi in qualche modo come ho detto in questo gioco gli altri giocatori tenderanno a volervi uccidere a vista perché appunto tendenzialmente la scelta migliore è uccidere a vista perché non si sa mai che cosa farà l'avversario è difficile capirlo e spesso gli avversari ti sparano quindi diciamo è più semplice sparare prima insomma rischiare di morire perché si pensa che uno possa essere amichevole a volte non vale la pena voi vedete qualcuno quello probabilmente vi sparerà vi sparate prima degli altri stanno sparando anche qua in mezzo ovviamente qua ci stiamo avvicinando a Eletro Zavorsk cioè anzi questa è Eletro Zavorsk credo oddio perché la gente parla così tanto in questo in questo server sono un po' inquietato dio zombie mollami dove sarà andato io sento sparare ma sembra che è di qua sulla destra i colpi sono di qua sulla destra i colpi vediamo se forse sta sparando a me no è di qua di qua dove è andato mi piacerebbe trovarlo voi lo vedete io non lo vedo sento i proiettili tra l'altro poi quando si perde sangue comincia a diventare tutto estremamente più più in bianco e nero quindi già adesso comincio a vedere tutti i colori un po' schiariti è abbastanza fastidioso per distinguere le cose specialmente dalla distanza dai dove sei andato non c'è le distanze in questo gioco sono qualcosa di gigantesco quindi non aspettatevi di di poter fare le cose rapidamente sicuramente è un gioco che richiede un po' di tempo specialmente se volete appunto ottenere un sacco di oggetti un sacco di cose bisogna essere pazienti specialmente se a parte il fatto delle lunghe distanze ma anche se si vuole ottenere le cose senza morire a caso bisogna essere pazienti altrimenti è davvero dura davvero dura a muoversi cioè io come mi sto muovendo ora è già un miracolo che sono ancora vivo infatti ho perso già i miei 4500 di di blood adesso sto avvicinandomi a quell'edificio che vedete laggiù che è una fire station quello vedete che ora è ingrandito quello laggiù in fondo è una fire station le fire station sono dei posti in cui tendenzialmente si possono trovare un sacco di armi cose un po' un po' più avanzate insomma e proprio per questo motivo sono posti fottutamente pericolosi insomma non è una grande idea andarci come ci sto andando io correndo in seguito da un mucchio di zombie perché probabilmente ci sarà già della gente dentro o comunque della gente nelle vicinanze perché è un posto pieno di cose appetitose ora chissà dove è andato quello là che stava sparando è sparito io mi avvicino a questa fire station che come vedete è leggermente isolata rispetto alla città quindi forse potrei essere fortunato e non trovare nessuno dentro o forse no non lo so comunque adesso diciamo entro qua dentro guardo un po' cosa c'è dopodiché penso che mi suiciderò per farvi vedere per bene come comincia questo gioco e farvi vedere magari quali sono i modi migliori per iniziare quali sono i posti da cercare io non ho giocato enormemente ma guarda qua cosa c'è lattine cazzate andiamo a cercare un'arma per finire in bellezza io voglio un'arma per andare in giro sparacchiare e finire in bellezza dunque proiettili per un'arma che non mi serve proiettili no painkiller saliamo 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 come vedete è strutturato in questo modo c'è una stanza e poi tanti piani ma niente probabilmente è già passato qualcuno a prendere tutto ovviamente il problema è anche quello essendo posti molto ambiti la gente tenderà a venire molto spesso niente insomma qui ci sono delle tende ci sono delle tende aspettate aspettate no devo assolutamente vedere cosa c'è dentro se quest'ora non ci smettesse di parlare ok vediamo fammi vedere dentro questa non c'è niente e quella a fianco non ci sarà niente figurati se in un posto così delle tende sopravvivono con dentro qualcosa lo zombie ha aperto la porta ha aperto la porta soltanto per uccidermi vabbè dai mi lascio uccidere dagli zombie così vedete come finisce e bene ragazzi scusate se questo video non è stato fondamentalmente interessante ma avevo bisogno di essere ucciso come vi ho spiegato hanno tolto il tasto respawn quindi non è più possibile respawnare dai uccidimi perché non mi voglio uccidere adesso dai dai zombie ovviamente oddio cosa fa questo tizio gente che urla nella chat vocale in questo gioco ovviamente avrete notato c'è la chat vocale no questi zombie non mi vogliono uccidere non c'è verso quindi continuerò in questo gioco c'è la chat vocale e a volte fanno degli scherzoni una cosa simpatica il fatto della chat vocale anche se appunto andrebbe un po' regolamentata in qualche modo io non ho idea probabilmente c'è un modo per mutare la gente ma non lo conosco questo zombie ovviamente quando uno vuole morire gli zombie non ti fanno mai partire l'emorragia dai dai piccolo zombie dai ce la puoi fare uccidimi uccidimi zombie ne arriva un altro dai zombie dai zombie ma si sono buggati ci sono scarsi questi zombie non ho parole non sono neanche in normalmente si muore davvero molto facilmente io ora che voglio morire non posso morire dai dai zombie adesso vado a grarne il più possibile ho sentito sparare ma si menano tra di loro ma secondo me sto laggando e non mi riescono a colpire questi zombie perché è davvero troppo strano vorrei che entrano nei muri si vabbè come ho detto è un alfa è molto buggata abbiate pietà dai dai zombie ce la potete fare sentite il click della mia accetta che non ce la fa in basso a destra tra l'altro quella gocciolina rossa sarebbe il sangue che se è con un più sopra vuol dire che state perdendo sangue per un'emoragia ora non sto perdendo sangue perché questi non ce la fanno a farmi andare in emoragia non ci riescono sono gli zombie più ma forse perché sono zombie vecchi a giudicare dalla coppola ma sono gli zombie più scarsi del mondo non mi attaccano non mi inseguono probabilmente avrei potuto ucciderli senza problemi avessi avuto almeno un proiettile ma niente Gesù è stato contrario a questa cosa quindi niente sto morendo ci vediamo con la prossima puntata ragazzi questo è tutto ciao ciao ciao